VANGELO DEL GIORNO Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse In verità, in verità vi dico Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce Un estraneo invece non lo seguiranno ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei Questa similitudine disse loro Gesù ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro Allora Gesù disse di nuovo In verità, in verità vi dico Io sono la porta delle pecore Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti Ma le pecore non li hanno ascoltati Io sono la porta Se uno entra attraverso di me sarà salvo Entrerà e uscirà e troverà pascolo Il ladro non viene se non per rubare Uccidere e distruggere Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza La lettura del Vangelo del giorno è offerta da www.preghiere.eu Visita il sito per conoscere i suoi contenuti Grazie a tutti